Dopo uno stop lungo dovuto a un'emergenza straordinaria come il Covid, non è facile andare a recuperare tutti in una volta le decine di migliaia di visite che sono rimaste sospese. Ma anche in questo caso bisogna sottolineare lo straordinario impegno della sanità pubblica, dei nostri medici, dei nostri infermieri, perché grazie ad un accordo con le quattro aziende nel mese di luglio si incrementano le visite con un prolungamento orario, utilizzando sabato, in alcuni casi addirittura la domenica, proprio con l'obiettivo di poter recuperare il prima possibile tutto quello che si è perso in questi mesi. Oggi è più complicato perché bisogna sanificare costantemente i locali ogni volta che si cambia paziente, quindi lo si fa in contesto più difficile, ma è uno sforzo che vogliamo sottolineare. Un investimento di circa 2 milioni e 7 da parte della Regione per fondi specifici che vanno a sostenere questa fatica, più quasi altrettanti per sistemare le sale d'attesa, per le tecnologie, l'informatica che deve supportare un modo diverso di prenotare, quindi tante apparecchiature che permettono di lavorare in un contesto diverso. L'obiettivo finale, anche con la nuova versione dell'app che uscirà a fine giugno e sarà esattamente come stare allo sportello, cioè offrirà tutti i servizi che si possono trovare normalmente negli sportelli, cerchiamo di colmare quella distanza, riempiendo l'agenda di visite, facilitando ulteriormente l'accesso ai servizi. Le casse, gli sportelli sono stati tutti riaperti, qui non è solo la telefonata che ci permette di accedere, come ricordavo l'app già c'è, nella nuova versione sarà ancora più completa in termini di funzionalità, modalità diverse alle quali si aggiungeranno sempre nel mese di luglio anche le farmacie che da 20, quelle che oggi si può prenotare, diventeranno 100 e poi a crescere. Quindi anche con un numero nel territorio maggiore di sportelli che facilita anche in questo caso l'accesso verso la visita. Uno sforzo molto importante, a vantaggio dei cittadini che dopo un lungo periodo di difficoltà devono recuperare le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno.